Loro non devono neanche pazientare. Il ritardo nell'avvio del riscaldamento è un problema che non li riguarda, perché la scuola non è proprio dotata di alcun impianto. Stiamo parlando del liceo artistico Bonachia di Sciacca, che da anni e anni svolge le lezioni al freddo durante la stagione invernale. Questa volta le temperature particolarmente rigide, ma anche la polemica che si sta registrando sulla questione riscaldamento, ha portato gli studenti del liceo Bonachia ad alzare la voce e far sentire la loro protesta. In aula stanno così, indossando cappotti, sciarpe, berretti, coperte. Qualcuno porta da casa anche la borsa dell'acqua calda. In qualche aula ci si è attrezzati di stufa, ma oggi hanno voluto denunciare la loro particolare situazione rispetto alle altre scuole della città, che negli anni sono state dotate di impianti di riscaldamento. Noi, dicono, siamo evidentemente studenti di serie B rispetto agli altri, ma non intendiamo continuare a tacere e a subire in silenzio. Insomma, annunciano forti proteste per una situazione che definiscono inconcepibile e per la quale intendono chiedere anche l'intervento del prefetto. Siamo gelosi dei nostri diritti, hanno scritto, e denunciamo con forza l'assenza di impianto di riscaldamento nella nostra scuola. Istituto che dipende, come è noto, dall'ex provincia, oggi libero consorcio, al quale la preside Giovanna Pisano oggi al nostro telegiornale dichiara di avere sollecitato la soluzione di un problema che da sempre persista all'Iceo Bonachia. L'intervento in questo caso è piuttosto neroso ed è appena il caso di rilevare che l'ex provincia non ha i fondi neanche per far fronte all'ordinaria amministrazione. Quel che va rilevato è che è mancata negli anni quella programmazione che avrebbe potuto sfruttare i finanziamenti destinati alle scuole per intervenire all'Iceo Artistico Bonachia. Studenti e insegnanti vivono effettivamente una condizione di disagio e di penalizzazione rispetto anche agli altri istituti superiori ed era giusto dar voce alla loro protesta.